Ragazzi sono super 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 mega iper felicissima perché vi devo dire una cosa importantissima quindi ascoltatevi La scuderia Podere Catalini mi ha dato una super opportunità ovvero di andare a Verona Fiera Cavalli a fare uno spettacolo per l'associazione Cavallino Monterufolino Allora io sarò a Verona Fiera Cavalli da giovedì 4 novembre a domenica 7 Farò l'esibizione insieme a un'altra ragazza che viene alla scuderia Monteremo i due poni della scuola ovvero io scura e lei zucchero Io sono molto emozionata vengo in maneggio tutti tutti i giorni per essere bravissima per la coreografia Mi raccomando voi dovete esserci dovete esserci mi dovete supportarvi che siete il mio team Io senza di voi non riesco quindi vi darò ulteriori cioè vi darò più informazioni avanti più avanti E niente ve lo dovevo dire sono un po' emozionata E mi devo allenare Ciao 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 Ciao